Bene, bene, bene ragazzi, siamo in un video molto, molto particolare Perché sì ragazzi, oggi ci fingeremo una ragazza su Minecraft Quindi ragazzi, io nulla, non so che dire perché è un pochettino cringe Ma vi auguro una buona visione Mi raccomando ragazzi, se non vi iscrivetevi e tirate la campanellina Lasciate subito un bel like a questo video Fatemi sapere se ne volete magari altri, non ho altri server, vediamo Raggiungiamo al minimo 1000 like per questo video Vi lascio al video ragazzi perché è qualcosa di epico Buona visione E iniziamo con le nostre prime domande Ciao, sei forte? Ha 18 stelle, quindi non so se è forte o meno Sì dai, sono nuova Cosa devo fare? Bar del letto con cosa? Legno Ok, mettiamo il legno, quindi è lucidice di mettere il legno Mettiamo il legno in questo modo come la bardatura da scarsi Siamo proprio lento, lento, lento ragazzi Sprechiamo tutti i nostri maz Copriamo così ragazzi, ci stanno lasciando? Ho chillato uno, grande Perfetto, allora adesso ci facciamo un attimo di tool, dei blocchi Facciamo così e proviamo a rusharle Quindi lui non se ne sta accorgendo che io sto andando Andiamo, facciamo prima, diciamo i player scarsi Quindi diciamo quelli Così Cerchiamo appunto di non... Oddio lo sto anche chillato L'ho chillato così ragazzi, l'ho chillato, va bene Senza sprintare, stiamo chill Adesso sicuramente ci muriamo, appunto, siamo morti Ma calmi, dobbiamo far sì che lui non se ne accorge che noi siamo forti Ho 14 anni e non so fare nulla Lui sta ridendo ragazzi, ma no, XD ma no Secondo me ragazzi lui mi sta cercando di rimorchiare E secondo me non va a finire bene Mangiamo una gapple, facciamo così NG per questo Adesso facciamo così E il letto del primo è andato E cerchiamo un attimo di sorprendere il nostro amichetto, dai Che abbiamo questo qui? Non ci credo, one hit, non ci credo Zero di vita, va bene, va bene, ci abbiamo provato, ci abbiamo provato Mi piace la banana dura Allora, io non so se dissociarmi da quello che ho scritto Però almeno ragazzi loro si arrapano tutti quanti Perché ormai sono tutti così Facciamo così Questo è morto, perfetto Anche a me ha scritto il rosso Facciamo così Oh no, perché non prende no Vabbè, non prendeva no Perché fa tu sta che l'abbiamo killato Ok, il blu mi sta andando in base È appena morto, nice Non mi sfidate Sono Troppo Forte Bene ragazzi, mi sto potenziando spada Tutto così arrivo lì Che letteralmente gli apro il culo Che abbiamo il giallo qui ragazzi Che io potrei tranquillamente Fai a chilarlo E l'ho appena fatto Due tenetti, uno la messa dei miei compagni Una io Lei ha contattato di blu Morto uno Cazzo Mi sa Oh, eliminati Nice Mancano solo gli azzurri Vamos Ok, stiamo vedendo contro lui Cazzo non ho vita Ma non ho neanche blocchi Ragazzi, non ho nulla Oddio, ho rischiato tipo Troppo Nooo, per pochissimo Ok, ragazzi Ragazzi ci sono cascati Letteralmente ci sono cascati Mi hanno invitato lui Vediamo Quello che succede Vediamolo ai tuoi doti Ok Non scriviamo in chat party Perché sennò dopo è troppo sgamabile Pronto a morire Vedremo Ragazzi, è tipo straincazzato il rosso Vamos Mi ha sfidato in uno di uno Vamos, vamos, vamos Che è pre-morto? Giulietta 06 Qui domina ragazzi Altro che Ok Che lato? Non lo so che stai pensando Ok, è morto Oddio L'ha trotto Quindi Che ne pensi? Sei fortunato a un botto Ok Ok E l'abbiamo Eliminato Ho appena scritto Ho appena ucciso un player Molto forte Fatevi avanti Se volete sfidare La ragazza più forte Ragazzi Mi sto sfidando Con 250 stelle Di Coral Essendo che Io Ho praticamente sfidato Mezza lobby di Coral Nessuno ha accettato E sto cercando di trollarlo Sono in disguise Cosa È Cerchiamo di fare Gli scarsi Tra virgolette Sicuramente Ragazzi Aprile al culo Non so come andrà a finire Ma vediamo Ok È il team aqua Anche il nostro vicino Oh mio dio Ma sono andati diamanti Davvero? Non ci credo Sta giocando verso i diamanti Ma perché? Cioè si vuole fare Tipo protection E roba così? Ah ma non è lei Ma che cazzo? Non è lei lol Credevo di sì E invece no È l'azzurro Quindi dall'altra parte Benny quindi Lui adesso Lascerà a noi E questa volta Praticamente È quello che ci ha sfidato Vediamo un po' Come va a finire Fireballo lì Letto è andato? È sparito dalla mia pista Ok È un hit Morto Abbiamo sconfitto anche il 256 stelle Oh mio dio Vuoi sfidarmi ancora? Ok Ho quitato il game perché mi vuole sfidare ancora Stati tirando Sempre una solo Vai Ok lui è bianco Praticamente quello di fianco a me Sta arrivando ragazzi TNT Troppo aggressivo ragazzi Sta arrivando Troppo aggressivo Ok Sta arrivando TNT sul letto Ok capito Capito come se la vuole giocare Ok lo è morto? Sì ci siamo chiediti a vicenda Perfetto Dio regalo Ho vista brutta questa La vista è veramente brutta Ok mi ha chillato Eh cazzo Sono in troppo difficoltà Il verde Ok Due di vita Due di vita Cazzo Per pochissimo Questo non so se è culo o cos'è Regà Non lo so Ok Morto Gapple Letto è andato Mi sta andando in base Oh 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 L'ho chillato L'ho chillato di nuovo E niente Ci facciamo l'ultima ragazzi Madonna ragazzi Mi sto cringiando Mi sto cringiando Ok lui è team blue La partiamo al volo questa Perché lui ci può lasciare anche con 32 di blocchi Quindi adesso mi può anche lasciare Ma chi è ancora lì No non è lui Cazzo Mi sto terminando prima quello di lato Perché se no non riesco Ok Ma sono morto Non avevo tanta vita Ok Perfetto Ah lui già sta andando i diamanti Eh bastardo però eh Bastardo Perché lui adesso È potenziamenti Eh vaffanculo Eh regà Adesso È tosta Uh Oddio Lui ha pronto sharpness A Gesù A Gesù lui Anche la mano Il fa Di grega Madonna Madonna Cioè Si è fatto tutto È inutile che mi suicido Perché appunto ci muoio Bene Adesso È difficile Lui ha potenziato fino al culo Ragazzi Noi siamo messi male Letteralmente Sì però Mi ha abbazzuto con una fireball GG Ok ragazzi Stiamo facendo la privata E lui mi ha detto di entrare Naturalmente lo sto trollando Ok sto dicendo il comando Eccetera Come se i ragazzi non conoscessi il comando Bene Ci siamo Direi ultimo scontro Con questo ragazzo Ok è morto Ha potenziato la fornace Cosa che mi posso prendere Tranquillamente Le fireball E comunque sono utilissime Quando lui gioca solo in AIG Praticamente Io sono fatto l'armor Oh l'ho rotto Ok Bene Il letto l'ho rotto Madonna raga Non so neanche come l'ho rotto Ma l'ho rotto Ci ha passato attraverso Non ci credo Eh mi fai il letto Mi fai il letto Ok 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 Ho sbagliato tutto Ho sbagliato io Va bene Ci sta Non ci credo Però dai Ma che merda Allora ragazzi Ha vinto lui va bene Con le fireball gg Gli ho appena detto Tra poco scoprirai chi sono Grazie Per Il game Concludiamo così Con mi piace il pesce Ok ragazzi Sono con il mio account Quindi Principale Bene Io naturalmente Spero questo video vi sia piaciuto È stato un po' particolare Mi sono divertito Naturalmente ragazzi È un troll Non vi preoccupate Naturalmente Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel like Arrivederci dalla campanellina Fatemi sapere cosa ne pensate Sotto nei commenti di questo video E vi saluto Bella Ciao a tutti 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 Ciao a tutti